Allora, una volta volevo fare un esperimento e volevo prendere le nostre radici che sono il tango, c'è il waltzera, immaginare che fossero cresciute come il rock è nato da, insomma, la musica folk americana. Ecco, immaginare il tango che diventasse un tango un po' più violento, il tango rock. Grazie a tutti!